Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti di nuovo ancora ben ritrovati qua nel disordine, solito classico, usuale, consueto, della mia libreria, dalla mia maglietta del trenza Rodrigo Palassio e dal mio basco da militare di quando ero un simpatico soldatino di leva dell'arma delle trasmissioni secondo Scaglione 1985. È da diverso tempo che su questo canale mi si chiede di parlare di uno dei personaggi più importanti ma più dimenticati della storia militare italiana durante il ventennio. Di chi parliamo? Parliamo del generale Alberto Pariani. Allora come ben sapete io ho un rapporto quantomeno conflittuale con la classe dei generali italiani, insomma con gli ufficiali comandanti italiani della seconda guerra mondiale, io ho un rapporto quantomeno conflittuale soprattutto con Graziani, vabbè lo sapete anche perché oggettivamente Graziani è assolutamente indifendibile, un disastro come comandante militare e ce ne sono anche altri quasi altrettanto disastrosi. Uno degli uomini che più danni ha fatto alle forze armate italiane prima dello scoppio della seconda guerra mondiale è proprio il generale Alberto Pariani, l'inventore della cosiddetta divisione binaria, ovvero sia una divisione fondata su soli due reggimenti che doveva servire per una maggiore agilità, per una maggiore tra virgolette velocità nella guerra, la famosa e confusa idea della guerra di rapido corso, ma che si rivelò soltanto un disastro logistico organizzativo utile soltanto a moltiplicare i quadri e a riempire l'esercito di ufficiali inadatti e non preparati. Pariani aveva un rivale, un nemico se vogliamo, il generale Baistrocchi, che lo vedeva come il fumo degli occhi, non del tutto a torto, perché Pariani era decisamente uno che aveva la bocca decisamente più rapida del cervello, diciamoci la verità. Sfrutterò, per parlare del generale Pariani, questo bel libro di Giovanni Cecini intitolato i generali di Mussolini. Una breve antologia di biografie secche, stringate, ma estremamente chiare su chi erano i condottieri della macchina bellica mussoliniana. Pariani, diciamo, ripeto, come ho detto prima, un uomo la cui bocca viaggiava molto più veloce del cervello. Un uomo che, detta brutalmente com'è, faceva molta fatica a connettere il mesencefalo al perineo. Definizione brutale, definizione volgare, ma che se si legge la carriera, la storia e le idee di Pariani, e il modo di fare di Pariani, ahimè, credo che sia l'unica cosa da dire a proposito del personaggio. Praticamente, quando Baistrocchi fu silurato, la divisione binaria, che era un pallino di Pariani, e, diciamo, Mussolini aveva, diciamo, gonfiato decisamente i bilanci dell'esercito, ma il portafoglio era vuoto. Baistrocchi, tolto di mezzo Baistrocchi, che aveva detto, scusate, qua abbiamo finito i soldi, e l'unico modo, ci dice Giovanni Cecini, l'unico modo senza soldi, l'unico modo per portare avanti il blef con cui si poteva compiacere Mussolini era, giusto appunto, quello della divisione binaria. Pertanto Pariani manipolò, mentendo sapendo di mentire, pure una testimonianza di Gambara per avere la conferma che in Spagna la divisione binaria aveva funzionato. Non era abbastanza contento delle manovre celeri del settembre 1937 in Veneto, sprizzò ottimismo da tutti i pori, proponendo a quel punto, di creare un corpo d'armata misto con una divisione celere e una motorizzata. L'idea appariva in teoria geniale, in teoria. In pratica si scopriva che i celeri erano a cavallo o in bicicletta e i motorizzati non avevano mezzi di esplorazione. Pariani convocò 65 generali per lo studio di questioni organiche dopo l'introduzione della divisione binaria, la sua creatura, la sua grande idea, la sua grandiosa idea, un'idea che fece più danni della grandine e che secondo me è paragonabile come disastro combinato solo, facendo le dovute tare, solo alle purghe staliniane. Poi vi spiegherò il perché. Allora, il sottosegretario, Pariani era sottosegretario del Ministero della Guerra, Pariani chiarì subito la portata politica e strategica della divisione binaria. Ok? Ripeto, con il nuovo ordinamento si creavano delle brigate miste, tuttavia sarebbe stato conservato loro il nome di divisioni perché, tenetevi forte, parole di Pariani. Tutti determinano la forza di un paese dal numero di divisioni che esso è in grado di mobilitare, è quindi una questione di moneta corrente, è una questione morale per la quale è bene parlare di divisioni in luogo di brigate miste. Sì. Sì, lo ha detto. Cioè, praticamente, noi, la divisione binaria è in pratica una brigata mista, ma noi le chiameremo divisioni perché la forza di un popolo si misura con il numero di divisioni. Credo che la mia faccia dica tutto e le parole di Giovanni Cecini sono, a dir poco, impietose sul personaggio. Allora, era la palese ammissione che si stava operando un mero artificio contabile, mascherato dietro l'idea di migliorare il rapporto artiglieria-fanteria. Ne seguì un simulacro di dibattito che evidenziò alcune criticità. Sui 65 generali presenti, 18 si dichiararono favoribili, 8 contrari, 6 mostrarono seri dubbi, i restanti evitarono un giudizio impegnativo. Molti di questi, ovvero sia Guzzoni, Soddu, Visconti Prasca e compagnia cantante, impegnati nella campagna di Grecia tre anni dopo, avrebbero amaramente riflettuto su quello scellerato silenzio. Perché nell'Italia fascista non si doveva disturbare il manovratore anche quando il manovratore stava facendo una enorme cazzata. Allora, il punto dolente fu poi che le voci dissenzienti o pseudotali non andarono a toccare il vero problema, ovvero sia l'adeguato supporto logistico senza il quale le nuove, tra virgolette, divisioni non avrebbero avuto nessuna autonomia operativa. In pratica, noi andiamo a rivoluzionare, grazie alle pensate di Pariani, con l'idea di migliorare il rapporto tra fanteria e artiglieria. Allora, riorganizziamo da capo l'esercito con queste cosiddette divisioni binarie, ma combiniamo un macello, o per meglio dire lo combina Pariani per far contento Mussolini, che voleva più divisioni. Allora, in pratica queste nuove divisioni binarie divennero un mero strumento di rottura, a cui si doveva affiancare per forza di cose il corpo d'armata che, nuova grande unità base, era compatibile con lo sfondamento e la manovra risolutiva. In pratica stavamo facendo una gran confusione. Alla prima riunione seguirono, ripeto, altri due incontri, quello del 23 e quello del 24, ripeto, novembre 1937. In essi Pariani spiegò le proprie idee sulla motorizzazione e la meccanizzazione e, se vi ricordate, ne abbiamo parlato nel famoso libro, quando ho tirato fuori spesso il famoso libro di Ceva e Kurami, sulla motorizzazione dell'esercito fino al 43. Pariani esplicò le proprie idee sulla motorizzazione e la meccanizzazione, quindi chiese ai presenti pareri in merito all'organica e all'impiego di una grande unità corazzata. Del resto, le esperienze etiopiche e spagnole avevano offerto motivo di riflessione. Il sottosegretario non mancò di evidenziare un possibile uso di tale unità in contesti oltremare, sfatando quindi l'idea che egli avesse un'impostazione provinciale. A livello strategico aveva idee invece non troppo diverse da quelle degli altri eserciti competitori. Quello che gli mancava era sempre e solo la copertura finanziaria, i soldi, perché ricordiamoci sempre l'Italia del ventennio era un paese arretrato, era un paese povero, era un paese quasi alla fame, senza fondi per l'organizzazione, senza fondi per l'aggiornamento, per il miglioramento, per tenere in piedi le forze armate. Allora, per far quadrare i conti si proseguì un fatto di meccanizzazione verso la realizzazione del piccolo e leggero. Cioè, chiedetevi perché ci siamo riempiti di carri L3-33, i CV-33. Chiedetevi perché il motivo è questo, non avevamo soldi, è il piccolo e leggero. Cosa ha fatto sgradita ai grandi industriali? Avete presente la proprietaria dell'altra squadra del cosiddetto derby d'Italia? Indovinate un po'? Va bene, lasciamo stare. Questa impostazione deficitaria divenne grottesca, ci scrive Giovanni Cecini, quando Pariani arrivò alla conclusione di creare sì divisioni corazzate, ma leggere e senza cooperazione con l'aviazione. tenetevi forte, ve la ripeto, perché questa qui è una cosa fondamentale che riguarda il disastro che colpì le forze armate italiane quando entrammo in guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. ripeto, tale impostazione deficitaria divenne grottesca quando Pariani arrivò alla conclusione di creare sì divisioni corazzate, ma leggere e senza cooperazione con l'aviazione. in pratica delle anatre zombe, l'esatto contrario della successiva dottrina prevalente tedesca. insomma, il presupposto errato fu che in Italia si pensò di fare grandi unità carriste, ma non grandi unità corazzate, intendendo con queste ultime la sinergia dei carri con la fanteria e l'artiglieria. si rimase in fondo, al netto degli ammirevoli presupposti, a un concetto miope. la potenzialmente innovativa armata del Po venne costituita ripeto, la cosiddetta armata del Po venne costituita solo sul presupposto di un impiego sulle Alpi. allora, figlia di questa concezione prealpina fu la parziale realizzazione di un'altra delle idee creative di Pariani. e cominciate a preoccuparvi, si è già accennato alla sua intuizione che avrebbe voluto la guerra italiana concentrata verso il mediterraneo contro l'impero britannico. il presupposto era poter dispiegare in Libia, ancor prima del conflitto, abbastanza uomini, mezzi e riserve perché egli intuiva che la marina avrebbe poi avuto gravissime difficoltà a spostare oltre mare quanto necessario durante la guerra. Pariani interrogò in proposito Badoglio e il maresciallo si mostrò molto scettico a proposito di un'azione offensiva verso l'Egitto. Tuttavia, da principio, Badoglio sembrò voler collaborare con Pariani perché, a suo dire, i due corpi d'armata destinati in Libia andavano bene soprattutto per difendersi. Ah, va bene, va bene, va bene. Nonostante tali riserve, Pariani continuò poi la sua preparazione votata all'offensiva. Prese contatti diretti con il governatore Balbo, ne nacque un confuso piano di attacco in cui si prevedeva il movimento fino a 12 divisioni attraverso il deserto senza però provvedere ad un adeguato supporto capace di una vinsata rapida e risolutiva. Quando mi menano il torrone con la storia che Balbo ci avrebbe, tra virgolette, salvato dall'operazione Compass bisogna ricordare questa cosa. Cioè, praticamente, c'era sì un piano per attaccare l'Egitto ma era un piano che praticamente non aveva i presupposti per funzionare era un piano nel quale non si teneva in minimo conto quella cosa chiamata logistica, logistica, logistica. I limiti di Balbo come condottiero emergono da queste parole. Decidendo di lasciare l'armata del Po a presidio dei confini settentrionali del paese, le dotazioni libiche, prive di grandi unità corazzate, rimanevano in uno sconfortante limbo. Tutto durò così fino a quando, a fine gennaio 1939, Badoglio, sempre lui, ripensò gli impegni bellici. Dopo la conferenza di Monaco del settembre 1938, Mussolini prevedeva un lungo periodo di pace perché oggettivamente ne avevamo bisogno. Eravamo in piena crisi di riorganizzazione dovevamo ricostituire le scorte distrutte dalla disastrosa e costosissima avventura etiopica, dalla ancora più disastrosa e costosa avventura in Spagna. Perché parlo di disastro? Perché ci costarono un'ira di Dio, ci costarono soldi che non avevamo. Ok? Allora, di conseguenza, dato che Mussolini prevedeva un lungo periodo di pace dopo la conferenza di Monaco del settembre 1938, l'obiettivo per il capo di Stato Maggiore Generale era divenuto quello di chiudere le porte di casa sulle Alpi in previsione di un conflitto difensivo contro la sola Francia. Perché, ricordiamoci, Mussolini ogni tre per due dava di matto contro i francesi. Va bene. Di fronte ad un costernato pariani, il maresciallo Badoglio precisò «L'azione studiata verso l'Egitto non ha più ragione di essere» e, mesi dopo, ribadì «Studiare operazioni non rispondenti alla realtà vuol dire logorarsi il cervello e perdere tempo». «Badoglio», 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 «Badoglio». Vabbè, 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 vabbè. Ogni ulteriore pianificazione contro l'impero britannico lasciò il tempo che trovò. Sarebbe stato Graziani solo nel luglio 1940 a ereditare questa patata bollente. Poi mettiamola così. Pariani cercò di, come dire, migliorare l'equipaggiamento dell'esercito, cercò di spronare l'industria, cercò di far produrre all'industria quello che all'esercito serviva e non quello che l'industria gli voleva vendere. Ma non ci fu caso, non ci fu verso, perché sappiamo bene come funzionava il sistema corporativo italiano. Il sottosegretario Pariani era consapevole che non c'erano soldi, era consapevole che, a differenza della Germania, che grazie ai MEFO, e ne parlerò un giorno, aveva, come dire, drogato l'economia consentendo ingentissimi investimenti negli armamenti e Pariani cercò di maggiorare la capacità produttiva. Ritenne necessario passare dal produrre 65 bocche da fuoco mensili d'artiglieria a 250. L'operazione consisteva nel comprare all'estero i nuovi impianti. Ciò nonostante, per ragioni valutarie, l'unica che fosse disposta a fare credito all'Italia era ovviamente la Germania, furbi loro, le cui fabbriche tuttavia erano già oberate dalla sfrenata domanda interna, perché all'epoca la Germania era in pieno riarmo, all'epoca i MEFO-Wechsel creati da Schlacht stavano funzionando alla grande. Aspettate un attimo. Il libro di riferimento in questo caso è L'impero ombra di Hitler di Pierpaolo Barbieri che analizza i meccanismi economici del riarmo tedesco e della subordinazione italiana a livello economico alla Germania. Allora, Pariani continuò in questa sua opera cercando di spronare l'industria a produrre di più, ma la Germania decise di conservare tutto per la produzione domestica e noi dovemmo continuare a equipaggiare le nostre truppe con armi, soprattutto artiglierie, antiquate e superate. Il generale Dall'Olio, che all'epoca era commissario capo agli armamenti, che per la sua esperienza e per il fatto che era molto anziano, mettiamola così, se ne fregava altamente e diceva le cose come stavano, non aveva problemi a cazziare pesantemente sottosegretari e capi di Stato Maggiore. Allora, 22 dicembre 1938 arriva pure il tanto declamato ordinamento Pariani che ampliò ulteriormente gli organici dell'esercito. Era infatti prevista una forza bilanciata di oltre 300.000 uomini per una ferma di 18 mesi. Per evitare problemi di mobilitazione, vista l'epocale riforma proposta, esse avrebbe dovuto essere diluita nell'arco di dieci anni di pace generale. Dieci anni che non avevamo. Ecco, qui non tutte le colpe sono di Pariani, però, mettiamola così, può essere colpa di Mussolini che si è filato di Hitler. Avevamo bisogno di pace, avevamo bisogno di tempo, ma non ne avevamo. I segnali c'erano tutti, non ce ne volevamo rendere conto, non ci rendemmo conto che ci servivano dieci anni per riorganizzare le forze armate. Allora, le divisioni binarie, mettiamola così, un classico esempio di fare i conti senza l'oste, perché sentite che cosa ci scrive Cecini. Le divisioni binarie scompaginarono completamente l'assetto precedente. Per abbinare territorialmente i reggimenti delle sue divisioni, Pariani decise di cambiare il loro numero. Così distrusse lo spirito di corpo di tutta la fanteria italiana. Proprio quello spirito a cui sempre egli si appellava in mancanza d'altro. La più grossa delle castronerie combinate da Pariani. Le bandiere dei reggimenti per le quali erano stati sparsi torrenti di sangue, e questo ricordiamocelo, la retorica del sangue versato per la patria, ma le bandiere dei reggimenti che erano state veramente bagnate nel sangue di migliaia e migliaia di italiani, vennero scambiate fra i corpi come se si trattasse di pacchi postali. La mancanza di un numero adeguato di ufficiali infine portò alla teoria della gerarchia a fungo. Sì, la gerarchia a fungo. Come funzionava? In tempo di pace dovevano essere adeguati i generali e i colonnelli necessari all'esercito di guerra, in quanto ai gradi inferiori si sarebbe provvisto con i richiami dal congedo o con migliaia di nuovi ufficiali di complemento. In televisione si andò a sancire uno dei peggiori errori in ambito di reclutamento. Venne reso obbligatoria la frequenza ai corsi allievi ufficiali a chiunque avesse conseguito un titolo di studio di scuola superiore. Si creò così un numero adeguato di quadri sufficientemente colti, ma spesso demotivati e incapaci di comandare. Il fungo prospettato da Pariani produsse quindi una pletora di alti ufficiali, molti dei quali sedentari, e una massa di ufficiali inferiori inidonei ai compiti bellici. La gerarchia a fungo Pariani, un genio inverso. Questa catastrofica situazione moltiplicò immensamente i problemi del nostro esercito. Ho detto prima che la riforma Pariani delle divisioni binarie può essere paragonabile come risultato al macello che fecero le purghe staliniane nella Russia sovietica. Altro, altro. Le purghe staliniane sappiamo benissimo che costarono migliaia, migliaia di morti e decapitarono letteralmente l'esercito e privarono l'Armata rossa di praticamente tutti i loro ufficiali superiori. Con la riforma Pariani si creò una crisi organizzativa spaventosa che Pariani stesso prevedeva che ci sarebbero voluti dieci anni di pace generale per sistemare il macello combinato. In pratica ci ritroviamo con una catassa di generali e un numero piccolo di ufficiali subalterni preparati e pronti e una marea di ufficiali di complemento assolutamente inadatti al compito. Nell'aprile 1939 ci fu lo scordinato e disastroso attacco all'Albania. Nell'agosto del 1939 ci furono le manovre di Torino e alla vigilia dell'offensiva tedesca in Polonia queste manovre e il disastroso sbarco in Albania perché lo sbarco in Albania fu un disastro mostrano queste cose mostrano quanto Pariani non solo fosse l'assista nel ruolo di capo di stato maggiore ma in qualità di sottosegretario aveva prodotto un meccanismo militare arzigogolato inefficace e autoreferenziale. Quando si accorse che il nuovo ordinamento non sarebbe stato pronto per la prova bellica per amor proprio non lo volle interrompere. l'incapacità di accettare le proprie responsabilità. Ripeto quando si accorse che il nuovo ordinamento il suo ordinamento non sarebbe stato pronto per la prova bellica per amor proprio non lo volle interrompere. il lato più tragico di tutta questa storia era sempre la copertura finanziaria. Noi non avevamo soldi avevamo buttato tutto nella riconquista nella Libia nella guerra di Spagna nella guerra di Etiopia non c'era più soldi non c'erano più fondi per rinnovare l'esercito per mettere in piedi il cosiddetto ordinamento Pariani tanto caro al Duce per raddoppiare e moltiplicare il numero delle divisioni. Va bene Pariani aveva imposto una riforma tanto radicale sul presupposto che i fattori tempo e denaro avrebbero lavorato a suo favore invece si trovò con i tedeschi a Varsavia mentre le industrie italiane producevano un numero limitato e inadeguato di armi e attrezzature ricordatevi sempre i miei famosi testi scritti da Ceve Kurami sulla meccanizzazione dell'esercito fino al 43 l'Italia si ritrovò insomma a mobilitare un esercito le cui dimensioni erano commisurate alle sue capacità demografiche ma non alle sue scarse aggiungo io potenzialità industriali riducendo alla lunga anche queste ultime perché è un cane che si morde la coda vogliamo fare il passo troppo più lungo della gamba e le industrie anche volendo non riescono a seguire i bisogni di questa catastrofica riforma il piano operativo si riduceva poi alla organizzazione della raccolta e distribuzione delle forze in attesa della decisione politica e magari della medesima dichiarazione di guerra che per il sottosegretario spettava solo al capo del governo Pariani considerava insomma la secretezza e la rapidità le armi vincenti non valutò però che la fretta era comunque cattiva consigliera e soprattutto pessima esecutrice perché ho detto che la riforma Pariani è paragonabile per disastro combinato alle purghe staliniane non ci sono di mezzo dei morti anzi non fu ammazzato nessuno ma tenete presente l'armata rossa viene decapitata dalle purghe c'è una crisi completa di riorganizzazione le dottrine di Tukhachevsky vengono brutalmente accantonate gli uomini di Tukhachevsky vengono eliminati salgono nuovi comandanti che devono seguire le direttive politiche col risultato che poi si va a far la figura da Perakottari contro la Finlandia durante la guerra d'inverno tra l'altro parlerò anche della guerra d'inverno in Finlandia la riforma Pariani la riforma Pariani una moltiplicazione delle divisioni arbitraria un artificio contabile per aumentare le divisioni aumentando quindi gli organici degli ufficiali e dei soldati aumentando però la confusione e il caos nella totale disorganizzazione disorganizzazione che si vide durante ripeto come ha detto Giovanni Cecini il confusionario attacco alla confusionaria azione di conquista e di annessione dell'Albania come si vide durante la catastrofe della guerra contro la Grecia come si vide durante tutta la prima fase della partecipazione italiana alla seconda guerra mondiale insomma il generale Alberto Pariani nella sua doppia veste di sottosegretario del ministero della guerra e capo di stato maggiore dell'esercito cosa combinò un autentico macello una disorganizzazione totale un caos assolutamente impossibile da gestire un caos che ci sarebbero voluti dieci anni per sistemare ma non avevamo quei dieci anni e siamo scesi in guerra con questa totale e assoluta confusione ripeto il libro di riferimento è questo di Giovanni Cecini i generali di Mussolini le biografie dei condottieri della macchina bellica fascista la biografia di Alberto Pariani è una delle più illuminanti una di quelle che consente meglio di capire come mai noi arriviamo così impreparati e in una situazione così disastrosa alla seconda guerra mondiale un libro che ripeto vi consiglio caldamente di leggere tra l'altro vi ripeto anche l'invito a iscrivervi all'ottimo canale di Giovanni Cecini perché secondo me ne vale veramente la pena ripeto la riforma Pariani fu un disastro Pariani fu un genio inverso Pariani era l'uomo che disse allora ho raccontato spesso l'episodio riferito sempre da Cieve Curano il generale Caracciolo di Ferroleto va a prendere il comando di una divisione in Libia e Pariani gli dice mi raccomando mi raccomando non perda tempo ad addestrare la truppa perché il troppo addestramento in genera confusione nella testa dei soldati cosa non si fa per lisciare il pelo giusto cosa non si fa cosa non ha fatto Pariani pur di accontentare il bisogno di Mussolini di continuare a giocare il blef dei numeri delle divisioni noi abbiamo tante divisioni ma in realtà sono brigate e non sono nemmeno efficienti e non riusciamo nemmeno ad armarle infatti arrivamo alla guerra con pronte soltanto neanche una terza parte delle divisioni le altre erano tali soltanto di nome e mancavano di tutto di tutto non riuscivamo a mantenere il massiccio pesante e numericamente pletorico esercito che doveva essere il punto di forza dell'Italia fascista ma che si rivelò a dir poco fallimentare tutto qua insomma signori ripeto la biografia di Alberto Pariani scritta da Giovanni Cecini ci ha illustrato in maniera oseri dire chiara ed esemplare perché cademmo in un vortice di disorganizzazione e caos a causa della riorganizzazione dell'ordinamento delle nostre forze armate e perché questa situazione poteva essere più o meno con le dovute tari paragonabile al caos che regnava nell'armata rossa subito dopo le guerre stalinia le purghe stalinia scusate adesso cari signori tocca a voi come sempre cliccate nella campanellina qua sotto fatemi sapere che cosa ne pensate come sempre esponete più che liberamente le vostre opinioni ricordatevi che io non cancello mai i commenti e non blocco mai nessuno a parte casi gravi e che se spariscono i commenti solitamente spariscono per un bug della piattaforma di youtube che cancella tanti commenti ripeto adesso tocca a voi commentate qua sotto fatemi sapere che cosa ne pensate e come sempre arrivederci al mio prossimo video ancora un grandissimo grazie a Giovanni Cecini se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi al mio canale se non siete iscritti al canale di Giovanni Cecini iscrivetevi anche al suo ok quindi cari signori io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao